Hanno detto agli autisti che non devono scendere per tirar fuori una pedana per il disabile. Siamo arrivati a questo. Ma vi sembra accettabile? Non è accettabile. Cosa faremo? Li denunciamo. Io li denuncio e li licenzio seduta stante. Poi faranno caso al Tribunale del Lavoro. Non scendi in orario di lavoro a tirar fuori una pedana. Una denuncia per interruzione di pubblico servizio seguita dal licenziamento immediato. Così saranno trattati, promette il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, gli autisti di ACTV che dovessero rifiutarsi di posizionare le pedane per far salire i disabili sui bus, come consigliato dalle RSU in un comunicato definito ignobile dal primo cittadino. Abbiamo messo delle pedane manuali perché quelle automatiche si rompevano sempre. In tutta Europa è così, abbiamo verificato. Una volta hanno provato a mettere le automatiche, sai perché è negata al sasso e schiccia. Non si può fare. Bisogna scendere se c'è un disabile. Ma siamo tutti quanti che diamo una mano a una persona che ha difficoltà. Far salire e scendere i disabili fa parte del ruolo e della mansione degli autisti, sostiene il sindaco, e la stragrande maggioranza di loro non ha nulla a che vedere con questa vicenda. Ancora una volta un'intera categoria è stata offesa dalle iniziative di pochissime persone che si nascondono dietro a delle sigle. Siccome gli autisti non sono assolutamente convinti che la pensino così, dico bisogna rendersi conto che quando stelle RSU parlano, e quali che siano, chi ha firmato sta roba, si deve vergognare, vergognare di dare consigli del genere. E questo vale anche per il nostro comune.